Un auspicio sotto forma di invito a non abbassare la guardia sui livelli occupazionali della Casa Divina Providenza e il Collegio Ipasvi della provincia Bat ad accendere un faro sulla situazione nelle tre strutture sanitarie di Biceglie, Foggia e Potenza che sono passate dalla Congregazione delle Divine Ancelle alla società Universo Salute. Con una lettera inviata all'amministratore unico Paolo Telesforo e al presidente del Consiglio d'Amministrazione Michele Dalba, il presidente dell'Ipasvi Bat Michele Ragnatela, ma la sua iniziativa è stata condivisa da tutto il Consiglio Direttivo e tornato sui livelli occupazionali del personale infermieristico all'interno della Casa Divina Providenza. L'invito rivolto agli amministratori, contenuto nella lettera della quale sono stati portati a conoscenza anche le organizzazioni sindacali, è quello di valutare la possibilità di rilanciare l'attività aziendale delle strutture sanitarie acquisite anche attraverso la competenza dei suoi operatori sanitari, tra cui il personale infermieristico. È vero, ricorda il presidente Ragnatela, che la Casa Divina Providenza ha dovuto affrontare difficoltà finanziarie e vicende anche giudiziarie che ne hanno caratterizzato la storia recente, ma l'auspicio è che si possa uscire da un periodo di grande difficoltà proprio con il passaggio alla Universo Salute. Interlocutore al quale il collegio Ipasvi della Bat non nasconde la preoccupazione per la tenuta dei livelli occupazionali, vista la presenza in dotazione organica di numerosi infermieri precari in scadenza di contratto. Allo stato attuale, aggiunge il presidente Ragnatela, non ci sono certezze di continuità lavorativa per questi colleghi e così aumenta la condizione di disagio per l'assistenza da offrire a particolari pazienti, al quale si associa la poca serenità degli operatori sanitari. È consapevole il presidente Ragnatela della riorganizzazione che interesserà tutte le figure sanitarie all'interno delle tre strutture acquisite dalla Universo Salute e per questo chiude la sua lettera all'amministratore della società con un invito. Ipasvi si pone come interlocutore privilegiato sulla riorganizzazione lavorativa delle strutture.